Ehm... Perché non ho fatto l'illustrazione? Non vogliamo comprare l'illustrazione? Questo vuol dire che io... dovrei poi evitare questa parte con l'altra parte l'altro pezzo ecco di video sono problemi sono grandi problemi perché non sono molto bravo io a editare, faccio percioso schifo a editare quelli problemi vai oh devo sempre sapere dove va ma io devo andare di qua intendo ok special key vedo se c'è qualcosa altro di interessante qualcosa per l'uscita no e vado a prendermi la special poi vado a prendermi la carne che mi ricordo dov'è ok 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 sto di là quindi ho venuto qui qui scusate me ne vado da la fogna non mi ricordo dove è la fogna però vado da qui non mi ricordo la fogna la fogna la fogna del penultimo e no ai vieni non si fa è bisogno stai con le tante bande vabbè vabbè vieni 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 ok 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 fogna 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 a verta prima magari congeno di rani e poi e dopodichè perché uso i dinonimi dicendo le stesse vabbè e dopodichè uso la carne quindi vediamo voglio farlo più di metto non metto qua qui non metto qua qui no problem tanto grani dovrebbe venire a aprire posso prendere e fare anche così ok ora in teoria dovrei prendere la mito questa qui e andiamo a darlo al ragno abbiamo usato un minuto quindi sbrediamoci perchè me la devi dare qualcosa per l'uscita dalla fagna perchè se no qua sono problemi sono veramente problemi ancora non l'ho visto nei cassetti però no mi ammazzare qui c'è un roll meraviglio finisce di mandare da un po' vabbè non ho tempo da perdere cassetti ah ok non ho visto niente la voglio no e dai mamma fortuna tanto appena lì apre si senta mamma mia mamma mia sono brevissimo eh no dai servono a qualcosa l'ho ricoputa servono a qualcosa per forza mi giocano mi rimette a casa così tanti serve serve l'altro no tutti i due biondi sotto ho usato un life hack che non è un life hack ho usato un life hack stupido mi trovo un grande dietro però almeno sono sceso almeno sono sceso me ne scappo che ci sta granny no te la metto qua e tanto io faccio quello che devo fare tanto dovrò entrare ciao ok devo andare velocemente in giardino aprire la playhouse e metterci tutti gli ingranaggi dentro e vedere e vedere che cosa riesco a fare quindi andiamo e vediamo che succede se mi da la padlock in effetti se me la da oppure il wood stick il wood stick devo trovare il wood stick perché se no guarda non ce la faccio o poi ragazzi questo si fa anche contro le mie parti due volendo del video quindi non devo per farci farci all'insieme bene quanto è il fatto che si era stoppato la registrazione ingranaggio 1 ed ingranaggio 2 6 ce l'abbiamo la rassi padlock ok scelta il wood stick via scende ok 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 manca sempre meno no dai a stondondi no non è valido non è valido che cosa stupida che ho fatto mi sono frizzato da solo adesso freddo ok adesso avrei tutto freddo la schermata di condizioni tutto il ghiaccio dai 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 andiamo andiamo noi andiamo ma io non so dove trovarla trovarlo il woodstick è un oggetto piuttosto difficile da trovare ecco non so perché è difficile non ricominciamo dai per favore ma per favore non ricominciamo diciamo che me la ritrovo di nuovo dietro l'angolo dietro l'angolo me la ritrovo per favore no è una cosa peggiore per me non ci vado più per me per me non ci vado più ma trovi pulsi vedo un po' dove trovarlo vedo un po' tutti i posti perché non lo so veramente giusava non lo so non lo so ti ho trovato sei morto il tericomando l'unica cosa non lo posso trovare forse non lo so non l'ho proprio giocato assai questo giorno a me in 5 a 2 volte quindi non è che so proprio tutti i posti prima invece li sapevo e mi facilitava un boccio il gioco il gioco era molto facile ma ora no qua l'aggiunta di tutte queste cose poi mamma mia come l'hanno riso difficilissimo beh non difficilissimo però più difficilissimo di prima vieni vieni posso finire gli oggetti no non posso finire gli oggetti no non posso finire gli oggetti e perché non vieni no quanto si renta vieni ci devo mettere in extremo per venire no veramente è qua non so più dove trovarlo su wds troppo 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 no se li so che stai e dove è che sta che vuodsi e non ci sta più niente qua manco qua manco qua manco qua manco qua manco qua manco e qua manco non ci sta veramente non ci sta prova prova a scendere in una dangelina senza morire vedo si starà sotto e forse non l'ho visto forse qua dietro no non ci sta qua non ci sta c'è raga io tutto sto c'è dappertutto sto cercando non si trova subito forse qui forse qui forse qui mi spavento ogni volta dunque abbiamo due su tre due su un ma non si trova non si trova non si trova non si trova da per tutti sti che perchè alla fine non si trova non si trova non si trova da per tutti non si trova da nessuna parte è completamente impossibile non so se in effetti si trova ma in un posto difficile non lo so veramente vieni vieni però non so che dirti puoi venire però cerco meglio qua ho trovato la special qua non avevo trovato niente no la sento la sento camminare sti infame dov'è io tutto il piano mi sto facendo c'è tutto il posto non ho trovato non ho trovato è veramente l'oggetto più difficile ho cercato da cima a fondo non è che poi gli hanno aggiunto qualche cosa che non so e sto cercando quindi forse c'è bisogno non lo so non lo so non lo posso sapere non lo so non c'è niente che gli ho visto che voglio che non è così che non mi servono che non ci sta non ci sta proprio però che la sono nascosta la sono nascosta guarda non lo ho messo lì e l'ho messo qui dentro cioè no non ci sta ma così apro e proprio ho fatto che non ci sta è proprio fatto di non starci vabbè vabbè intanto non lo so non lo so non lo so non lo so ma l'ho capito ma l'hanno sfortunato ma sfortunato a certi livelli ma c'è qualcosa che devo fare in particolare niente 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 nessuna traccia nessuna traccia nessun cammino vedo meglio nei cassetti non lo so non lo so non lo so controllo meglio ma è inutile mi dà qual mi dà qualcosa sventrina provo ora magari da un oggetto ora giù la metto come su granditè io ci provo a fare gli easter egg di Angelina o di Angelina di Angelina è un easter egg come con i granditè mi sembra l'oggetto non mi dà niente come mi dovevo aspettare poi c'è basta ma eccolo dove è sono male ho visto no vabbè hai che a fare ricerche su ricerche tutto il tempo mamma mia ma veramente veloce scende il wooden stick ce l'ho non è manco il wood ma è wooden ma le tagli io lo tengo wood stick mamma mia ce l'ho fatta posso finalmente scappare tranne se ovviamente è un giro si matta ecco è fatto apposta è fatto apposta ma non è possibile trovarlo ovunque c'è dai un conto è trovarla davanti l'angolo che pegamina tutta sorta si no no ok lei sta andando là quindi io vado qua si sì